la vedete questa rosa è apparsa sulla porta d'ingresso dei dipendenti del polclinico di modena con il bigliettino questo fiore è per voi tutti sanitari sospesi veri guerrieri di luce che l'universo vi renda merito vi vogliamo bene e poi un cuore leggiamo l'articolo della pressa policlinico di modena una rosa rossa per riaccogliere i medici sospesi una rosa capace almeno per qualche ora di sanare la divisione tra un mondo di medici e sanitari di serie a e un ghetto di medici e sanitari di serie b ed è proprio quello che stanno cercando di fare separare nuovamente i buoni dai cattivi vi ricordate quando ci fu il reintegro dei professori sospesi i quali furono destinati agli scantinati in modo che non potessero entrare in contatto con i ragazzi ed influenzarli con le loro idee ecco sta avvenendo la stessa cosa alcuni governatori di regione tra cui de luca della campagna hanno detto espressamente che i sanitari sospesi reintegrati non potranno stare a contatto con i pazienti leggiamo l'articolo questo fiore è per tutti voi sanitari sospesi veri guerrieri di luce che l'universo vi renda merito vi vogliamo bene è questo il cartello a commento di una splendida rosa rossa appesa da una mano anonima questa mattina sulla porta dell'ingresso 1 del policlinico di modena riservato ai dipendenti fuori dalle polemiche e dalle proteste ideologiche di chi avrebbe voluto prolungare la punizione sino a fine anno fuori dalle discriminazioni che ancora questi sanitari dovranno subire una volta rientrati al lavoro c'è ancora chi anche a modena mette al primo posto la dignità di chi ha fatto scelte sanitarie difformi dalla maggioranza le scuse probabilmente non arriveranno mai per il dolore inferto a medici lavoratori famiglie attraverso l'orrore del green pass ma piccoli segni di speranza permettono un sorriso in più dopo la decisione del governo meloni di rendere immediato il reintegro dopo qualche ora il fiore appeso sulla porta di ingresso del policlinico è stato rimosso da un'altra mano altrettanto anonima ma questo nulla toglie alla delicatezza del gesto e di quella rosa rossa una rosa capace almeno per qualche ora di sanare la divisione tra un mondo di medici e sanitari di serie a e un ghetto di medici e sanitari di serie b mettendo di nuovo tutti senza etichette o medaglie sullo stesso piano ed è così sono tutti sullo stesso piano anzi siamo tutti sullo stesso piano non solo sanitari no buzz e sanitari buzz ma cittadini no buzz e cittadini buzz e perché perché le stesse case farmaceutiche hanno ammesso che quella pozione magica non impedisce il contagio e quindi qual è lo scopo di tenere i sanitari no buzz lontano dai pazienti fragili se poi i buzz che si avvicinano li possono infettare in egual modo ragionate sulle cose non ascoltate la propaganda svegliatevi questi vanno avanti verso il loro scopo finale sta a noi dire no e mettere un freno a ciò che vogliono fare voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti